Entra, entra. Su, su, entra, prego. Beh, eccoci qua. Questa è la mia casa, tutta in una stanza. Carina, cosa stavi dicendo prima? Beh, dicevo che è un peccato, conoscendoci l'un l'altra da tanti anni, che noi due... Sì, che noi due... Ma... Ma prego, accomodati, accomodati. Grazie. Sì, che dopo tanti anni, dicevo, abbiamo incominciato a conoscerci soltanto in questi giorni. Abbiamo... Abbiamo tante cose da dirci. Non devi pensare per un attimo che Otabi è invitata qui con altri scopi, se non quello di una semplice chiacchiera. Abbiamo... 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 Abb